Sto sparando dalla macchina. Devo fermarli il prima possibile. Fuori! Ora! 9-1-1, qual è l'emergenza? Sì, sentite, mandate subito qui degli agenti. Ho perso il chiamante. Sì, sentite. Sì, sentite. Sì, sentite. Sì, sentite. Buttatelo fuori strada, forza! Buttatelo fuori! Qui servono più persone! Sì, sentite! E' in merda! Mi attaccano! Sulla fiancata! Ma non so, bastardo! Sì, sentite! Sì, sentite! Sì, sentite! Buttatelo fuori strada! Buttatelo fuori strada! Coltatelo! Sì, sentite! Sì, sentite! Sì, sentite! Sì, sentite!